Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. Coda in A12 in uscita a Rosignano Barriera in direzione Rosignano per traffico intenso. Traffico rallentato in Fipilì tra Ponte della Est e Ponte della Ovest in direzione Livorno per traffico intenso. Coda per la volina 1 tra incisa Reggello e Valdarno in direzione Roma. Partenza del Tour de France a Firenze dal 25 giugno, provvedimenti di chiusura al traffico e di vieto di sosta in zona Piazza Santa Croce e Piazzale Michelangelo a Firenze. Autolinea Toscana effettuerà modifiche su numerose linee in servizio nel capoluogo toscano. Altre info sui nostri canali social. Fino al 7 settembre per lavori alla linea ferroviaria Raula Lunigiana e Castelluovo Garfagnana, cancellazione di treni e corse con bus per i treni regionali. I canali di vendita sono aggiornati. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!